Uomini e donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli svelano chi è il geloso tra i due e qual è stata l'esterna più bella. Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono subito entrati nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Ragazzi semplici e genuini, ma anche molto determinati nonostante la loro giovanissima età. I due hanno appassionato i telespettatori con le loro esterne a volte romantiche, altre a dir poco litigarelle. Poco dopo la scelta, Federico e Carola hanno preso una decisione importante, quella di andare a vivere insieme a Roma. Città dell'extronista. Di recente, i due volti del dating show di Maria De Filippi hanno risposto alle domande dei loro curiosissimi fan. Fede e Carola hanno svelato di essere andati a convivere esattamente il 27 marzo. Un utente ha chiesto come potrebbero descrivere la loro convivenza. Le parole di Nicotera. L'ex corteggiatrice ha confessato quasi sono i pregi che ama di più di Federico. E cosa invece non sopporta. I due fidanzati hanno poi raccontato che andranno presto a Caserta per andare a trovare un'altra coppia uscita da Uomini e Donne, La Vigna Mauro e Alessio Corvino. I follower hanno chiesto quando faranno una bella diretta. L'extronista ha ammesso che deve prima prendere coraggio. Volete sapere chi è il più geloso dei due? Ebbene sì, nonostante le lacrime e la rabbia di Carola quando vedeva le sterne di Fede con Alice Barisciani, il più geloso dei due è Federico. Un fan ha chiesto alla studentessa quando andranno a Varese, la sua città natale. La risposta del 25enne è romano. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno raccontato di aver già conosciuto le famiglie. Alla domanda su quale è stata la loro esterna preferita, Carola ha rivelato di aver preferito le sterne sulla neve. Carola carte sărub rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând, nici un curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu? Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Hai mei, hai mei, hai mei, hai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu.